Mercoledì sera, Milano, Rock'n'Roll, Smashing Wednesday, Dolly Noir, non poteva mancare raga L'unico posto per raccontarvi cos'è lo Smashing era il bagno Abbiamo qui Ale con Joe Solo Bombe Io voglio dire una cosa, la vicinanza che c'è fra Dolly Noir e lo Smashing Che loro sono dei ragazzi, sono ragazzi che si sbattono tutti i giorni per quello che amano fare nella vita Ottengono dei risultati perché gli piace fare le cose fatte bene Quindi abbiamo trovato dei fratelli in loro Smashing Wednesday da 7 anni è il mercoledì di Milano E' ribaltare un bar, assumare un bar in una valera Nasce come spin-off di Kilt, che è il nostro progetto numero uno Nasce perché? Perché mentre io suono elettronica butto pezzi punk Mercoledì sera, serata di divertimento a Rock'n'Roll E' il nome più difficile da dire da sbronzi Sblessi 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 Grazie per la serata Ciao raga